mister una bella vittoria e l'ennesima risposta di unità del gruppo in questo difficile momento sì per me non è solo una vittoria solo del gruppo che anche questo questa partita questo tipo di partite se lo merita anche il sostegno della città allora per me tutto lo che sta succedendo in campo è un riflesso di quello che si ha comportato la città con loro e loro se lo stanno ripagando allora sinceramente sono molto orgoglioso se lo meritano e bueno è un gran premio bisogna continuare con questa allegria che hanno loro durante tutto il allenamento come ho detto ieri sempre fede che bisogna premiarli per il fatto che vengono tutti i giorni a lavorare con molta allegria sempre felici che non è facile come ho detto ieri soprattutto adesso che abbiamo ottenuto un risultato positivo con più allegria saremo il ritorno degli allenamenti allora sinceramente non so che dirti avete messo un gran numero di palloni dentro allargando il gioco era il vostro obiettivo iniziare colpire in questo modo la virtus sì abbiamo studiato bene con andrea andrea ha fatto venerdì prima della rifinitura ha fatto un buon lavoro un buon lavoro su sull'ampiezza e l'obiettivo è stato questo con andrea e non mi prendo il merito perché lo abbiamo pensato insieme però il lavoro l'ha pensato lui del venerdì e bueno lo che abbiamo pianificato lo che ha pianificato andrea e penso che oggi è uscito bene si va avanti e le ultime due partite sempre per la vittoria e sì è lo che ci rimane vincere così per quando iniziano gli allenamenti essere sempre felici sempre contenti di tornare a vederci perché dopo un po' convivi più con i tuoi compagni o con gli allenatori con un gruppo che con la tua famiglia allora uno io personalmente quando entro la struttura la utilizzo come terapia sempre cerco di una volta che entro lì di avere tutti i problemi personali anche che ci sono tanti anche calcisti chi lasciarli fuori